Stanno mettendo in mostra una grande organizzazione, tanta roba, l'allenatore ha fatto davvero un ottimo lavoro. Fritz, ci sono metri a disposizione. Può colpire da lì il Napoli in gol. Un altro gol per celebrare una partita trionfale. Semplicemente fantastici oggi. Surk lassando gli avversari sotto ogni punto di vista. Davvero clamorosa la distanza fra le due squadre. 6 a 1. Enorme. Una partita molto spettacolare. Occhio al suo movimento. Ha perso il pallone. Ottimo recupero del pallone. Cerca la sovrapposizione. Conti. Fritz. Azione interrotta. Grande pallone verticale. Prova. E c'è il gol. Palla in rete. Allenatore che ha fatto benissimo a metterlo in campo. Grande sostituzione. Eccolo qui il replay con il gol segnato dal Napoli. Non ha sprecato il cross che arrivava dalla destra. Impeccabile qui sia il cross che la finalizzazione. Uno spettacolo. Conclusione vincente che supera il portiere avversario. Davvero un bel gol. Non ha spettacolo. Non ha spettacolo. Non ha spettacolo. Non ha spettacolo. Non ha spettacolo.